Buonasera, è un momento difficile per la nostra economia, abbiamo già detto nelle edizioni del nostro telegiornale c'è quel dato Istat con la crescita del prodotto interno lordo che segna zero che è inequivocabilmente negativo e al di là di come uno la possa pensare è un dato negativo per tutti. Certo ci si divide sulle ricette, ci si divide pesantemente e legittimamente e allora la ritiene legittima e giusta la sua scelta, la strada imboccata il premier Matteo Renzi che considera appunto le scelte del governo giuste e dice proseguiremo, proseguiremo con riforme strutturali. Renzi impegnato oggi è in Cina al G20. Ripartire senza sforare i limiti e questo in previsione della legge di bilancio, la manovra limiti che se no ci mettono a rischio come abbiamo spesso ripetuto in Europa. Perché? Perché la manovra verrà verificata in Europa e siamo nel mirino, sotto controllo. Un avvertimento lo lancia oggi il vicepresidente della Commissione, Dombrovski, che ci fa sapere che l'Italia ha già usato, ha detto Dombrovski, Tutta la flessibilità possibile già nel 2015 e nel 2016, quella flessibilità che è stata al centro dei vertici, degli incontri di Renzi con la Merkel in particolare, con Hollande, è considerata decisiva per far ripartire il paese. Questo è l'avvertimento, un segnale positivo nei nostri confronti che arriva in un momento, dicevamo, difficilissimo con quel dato del prodotto interno lordo. A proposito d'economia, a tirare la cinghia dovrebbero essere in particolare i dipendenti di un settore, quello bancario. Cosa è successo esattamente? Che il presidente Renzi ha detto appunto che verranno dimezzati gli esuberi nel settore bancario. La replica è stata immediata con i sindacati che hanno detto cosa sciopero generale nel pomeriggio. Poco fa la precisazione da parte di Palazzo Chigi che dice, non sono i dipendenti degli istituti, delle banche che verranno dimezzati, ma le tante poltrone presenti nei consigli di amministrazione. Ridimensionato quello che era sembrato davvero un'iniziativa molto pesante. Parleremo di quello che sta succedendo a Roma nel telegiornale. Il sindaco Virginia Raggi ha il lavoro per ricompletare la squadra. Ieri, ve l'abbiamo raccontato, la prima nomina in particolare per sostituire l'amministratore unico dell'azienda dei trasporti di Roma. Sapete che le dimissioni erano in tutto 5, anche un assessore, quello al bilancio Minenna. Operazione dunque non facile che va avanti. Oggi c'è anche una dichiarazione, poco tempo fa, della Raggi che dice che cercherà di coinvolgere, vuole, no cercherà, vuole coinvolgere nella ridefinizione della sua squadra i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Parleremo del terremoto perché la terra trema ancora nel centro d'Italia. Due scosse, una all'alba e una intorno a mezzogiorno. Magnitudo 4,3, 4,5 sono state sentite. La prima vicino Perugia, la seconda anche ad Accumuli, dove era in corso un incontro con gli sfollati, le persone che hanno perso tutto, sotto una tenda con il capo della protezione civile e il commissario. Errani in quei momenti, al termine poi, ha annunciato che entro sette mesi al massimo verranno consegnate le case provvisorie dove potranno andare chi ha avuto la casa devastata. Ma, dicevamo, tante, tante notizie. L'accordo alla vigilia del G20 sul clima tra Stati Uniti e Cina, importantissimo. Adesso gli altri paesi dovranno adeguarsi al protocollo aggiornato da Kyoto a Parigi. Ne parleremo, allarme migranti, è intervenuto il Ministro dell'Interno annunciando un vertice sulla distribuzione per martedì con regioni e comuni. E poi una serie di manifestazioni in Inghilterra, in piazza per protestare contro l'uscita dall'Unione Europea. Questo ed altro, iniziamo tra 30 secondi con i titoli del telegiornale. Ci sono pochi margini sulla flessibilità dei conti italiani. Avanti con le riforme, lo dicono il Vice Presidente della Commissione Europea, Dombrovski, e il Presidente dell'Eurogruppo, Dieselblom. Al G20, intanto, in primo piano c'è il problema della crescita e la ricetta proprio sulle riforme strutturali. La polemica sulle banche, i sindacati minacciano lo sciopero per le parole attribuite a Renzi sulla necessità di dimezzare le filiali degli istituti di credito. Fonti di Palazzo Chigi rispondono in fondata all'ipotesi di ridurre i bancari entro dieci anni. Per il sottosegretario dell'Economia Barretta si è parlato di semplificare gli organi dirigenti. A Pechino, prima dell'inizio dei lavori del G20, Stati Uniti e Cina hanno ratificato l'accordo sul clima siglato a Parigi lo scorso dicembre. Le due superpotenze si impegnano a limitare il riscaldamento globale molto al di sotto dei due gradi entro il 2020 con un taglio drastico delle emissioni di gas serra. Per il Presidente Obama un gesto politico di grande effetto a pochi mesi dalla scadenza del suo mandato. Nelle zone colpite dal terremoto dello scorso 24 agosto la terra continua a tremare. Nelle ultime 24 ore si è intensificato lo sciame sismico che ha interessato anche altri comuni, tra Marche e Lazio. Molta paura mentre si sono registrati nuovi crolli. Ci vorranno sette mesi per costruire le casette in legno da destinare agli sfollati in attesa della ricostruzione, ha detto il capo della protezione civile, Curcio. E dopo la raffica di dimissioni all'interno della Giunta e dei dirigenti delle municipalizzate, trasporti e rifiuti, il Sindaco della Capitale, Raggi, accelera per ricomporre la squadra, non senza polemiche di chi ha lasciato. L'ex Minenna attacca nella Giunta, non c'è trasparenza. Poco fa un messaggio della Sindaca ai consiglieri 5 Stelle, le scelte sui nomi le condivideremo insieme. Buonasera, allora, accordo storico alla vigilia del G20. Riguarda il clima, riguarda due paesi importantissimi come Stati Uniti e Cina. Un accordo che ha detto il Presidente, Barack Obama, è un passo importante per il salvataggio del pianeta. I due paesi hanno sottoscritto un documento che, per la precisione, si chiama COP21, l'impegna alla drastica riduzione dei gas responsabili dell'effetto Serra. In particolare, l'Italia è al lavoro per la sua adesione, hanno fatto sapere i ministri degli esteri in un comunicato congiunto, i ministri degli esteri, Gentiloni e dell'ambiente, Galletti. A questo punto, all'appello, mancano grandi paesi industriali importanti, sicuramente decisivi, come India, Giappone e Russia, che però potrebbero impegnarsi entro pochi mesi. Dopo quella del premier cinese Xi, Jinping mancava solo la sua firma mancina. È arrivata nel giorno in cui parole di Barack Obama in persona con la Cina abbiamo deciso una volta per tutte di salvare il pianeta, con la riduzione delle emissioni di gas Serra nell'atmosfera. Giornata dunque storica, attesa dieci anni, che Barack Obama, leader uscente degli Stati Uniti, non poteva mancare, dopo altre promesse non mantenute. Sì, perché oggi, poco dopo aver ratificato l'accordo di Parigi del dicembre scorso, Obama ha rivelato che proprio l'ambiente fu uno dei temi che più di altri lo spinsero alla corsa per diventare presidente, per essere sicuro che l'America avrebbe fatto la sua parte per quanto concerne ambiente e clima per le sue future generazioni. Ma sempre dieci anni ci sono voluti, nonostante promesse e parole, dieci anni che hanno sostanzialmente ribadito. La leadership mondiale di Cina e Stati Uniti è in fatto di inquinamento. Da soli i due paesi producono il 38% delle emissioni, in nome dello sviluppo industriale esagerato, delle politiche demografiche spesso sballate, della corsa all'iperproduzione per mercati sempre più ampi. Per capire di cosa stiamo parlando serve comprendere che i 23 paesi che ad oggi hanno già sottoscritto il piano di riduzione messo a punto lo scorso inverno a Parigi sono responsabili di un misero 1% dell'inquinamento planetario. La bozza prevede di limitare il riscaldamento globale molto al di sotto di 2 gradi entro il 2020 e sforzarsi per contenerlo entro un grado e mezzo negli anni a venire. C'è poi il cosiddetto progetto di decisione che affianca l'accordo parigino e che prevede lo stanziamento di 100 miliardi di dollari all'anno sino al 2020 per finanziare gli interventi climatici nei paesi in via di sviluppo. I piani nazionali per la riduzione dei gas serra saranno invece sottoposti a revisione ogni 5 anni. Obama comunque ripete che quella conclusa non è stata una battaglia uno contro uno. Nessuno dice può affrontarla da solo. Certo l'accordo non risolverà le crisi climatiche che affliggono il pianeta ma servirà da stimolo per tutti i paesi interessati e responsabili. A fare altrettanto nel rispetto del patto raggiunto. Insomma un segnale politico potente e innegabile che ora attende la kermesse new yorkese del 21 prossimo a Palazzo di Vetro. Mancano le firme di soli 20 paesi a questo punto affinché l'accordo sia applicabile. Se non si perde tempo le emissioni potremmo cominciare a ridurle già dalla fine dell'anno in corso. Basta volerlo e poi iniziare a salvare il pianeta stavolta facendo sul serio e senza far passare altri dieci anni. Abbiamo detto poco fa in sede di presentazione del difficile momento dell'economia italiana una promozione sufficienza stiracchiata. Ce la concede e comunque condizionata il presidente dell'Eurogruppo Disselblom che dice bene la strada delle riforme, il problema e il richiamo è sul debito. Servono politiche di bilancio solide dice Disselblom. Andiamo avanti con le riforme strutturali. Si impegna Renzi che come vi abbiamo detto è al G20 in Cina ma un altro e più duro richiamo all'Italia invece arriva dal vicepresidente della Commissione Europea Dombrowski che dice l'Italia ha usaurito la flessibilità. Flessibilità che abbiamo ripetuto per tanti giorni è considerata decisiva dal nostro governo e ne ha discusso con i partner europei per rilanciare la crescita. Flessibilità che dunque da quello che ci dice l'Europa non possiamo utilizzare e questo richiamo arriva il giorno dopo che è arrivato quell'altro dato negativo sulla nostra economia con il prodotto interno lordo fermo a zero. Arrivano dal forum Ambrosetti di Cernobio altri due tasselli di quella lunga marcia di posizionamento che da ora fino alla presentazione della legge di bilancio, l'ex legge finanziaria vedrà il governo impegnato ad ottenere ulteriori margini di flessibilità da parte di Bruxelles. Il primo lo fissa il vicepresidente della commissione elettone Valdis Dombrowski quando afferma che l'Italia ha spazi di manovra molto limitati visto che ha usufruito di tutta la flessibilità disponibile già nel 2015 e nel 2016 e che dunque sostiene per il 2017 ci si aspetta che il governo mantenga gli impegni presi abbassando il debito e correggendo al ribasso il rapporto deficit-pil. Unica apertura, i soldi per la ricostruzione del post-terremoto perché, conviene Dombrowski, si tratta di un evento eccezionale e dunque i fondi impegnati non andranno a pesare sul bilancio complessivo. Che è un po' quello che dice anche l'altro ospite del forum il presidente dell'Eurogruppo Jerome Diceblom quando conferma che nelle regole di bilancio c'è la possibilità di affrontare disastri naturali come il terremoto. Ma poi, quando gli viene chiesto cosa debba fare il governo se da un lato si mostra assolutamente favorevole alle riforme e anzi, sembra quasi fare il tifo per Renzi augurandosi che ce la faccia dall'altro conferma quello che in molti vanno dicendo da tempo ovvero che serve credibilità che gli investitori internazionali quello cercano e che se non si abbatte il debito e non si fanno solide politiche di bilancio difficilmente si riuscirà a far ripartire l'economia. Non è un caso che da Shanghai, dove si trova per il G20 proprio il presidente del Consiglio parlando a più riprese, prima agli studenti dell'università e poi ad un gruppo di imprenditori ribadisca l'attivismo del governo e la volontà di andare avanti nonostante gli ultimi risultati non proprio lusinghieri. La speranza è di arrivare a chiudere l'anno dice ancora Renzi con una crescita all'1% le potenzialità ci sono riuscirci però è un'altra cosa ma il problema della crescita in realtà non riguarda solo il nostro paese è un problema globale tant'è che su questo domani si chiuderà il vertice cinese con la firma di un documento che rilanci un'economia mondiale forte, stabile, sostenibile e bilanciata e che faccia leva su spesa fiscale politica monetaria e ancora una volta riforme strutturali. Riforme che spesso prevedono sacrifici dolorosissimi sembrato di capire dalle parole ieri di Renzi per quanto riguarda il settore bancario il Premier aveva parlato di dimezzamento del personale figurarsi i sindacati sono inevitabilmente e dal loro punto di vista giustamente saltati sulla sedia minacciando immediatamente lo sciopero generale in realtà poi oggi pomeriggio è arrivata una nota diffusa da Palazzo Chigi dicendo ma Renzi in realtà non vuole dimezzare i dipendenti i lavoratori di chi lavora in banca ma si riferiva a le troppe poltrone dei consigli d'amministrazione Le banche, ancora le banche e stavolta la spina nel fianco del governo dal caso Banca Etruria al Monte dei Paschi di Siena ai troppi crediti deteriorati che preoccupano Bruxelles rischia di innescare anche lo scontro con i sindacati del settore adesso basta a chi vuole l'eutanasia del sistema creditizio risponderemo con la mobilitazione dice una nota unitaria delle sigle sindacali o il Presidente del Consiglio ci convoca al più presto oppure siamo pronti allo sciopero nazionale tutto è nato dalle parole di ieri attribuite a Cernobio a Matteo Renzi abbiamo troppe filiali e poltrone da dirigente addetto alla platea degli imprenditori e poi a porte chiuse avrebbe approfondito il tema con tanto di cifre una razionalizzazione è inevitabile e 145.000 sarebbero i dipendenti in esubero da mandare a casa in 10 anni sul totale attuale di 330.000 cifra da far paura e la reazione è immediata sono dichiarazioni che destabilizzano tutto il comparto protestano oggi i sindacati ma se come dice il Presidente del Consiglio la politica deve restare fuori dalle banche perché il Governo decide di dare la linea alle aziende invitando a licenziare e chi pagherà i costi sociali di una manovra simile il confronto con le organizzazioni dei lavoratori ha portato negli ultimi anni all'esodo volontario di 50.000 dipendenti e attraverso il Fondo per l'Occupazione all'inserimento di 12.000 giovani ricordano i sindacati oggi Palazzo Chigi ha tirato il freno non c'è nessuna ipotesi di dimezzare i bancari entro 10 anni assicura una comunicazione ripresa anche dal sottosegretario all'economia Barretta il Governo si pone piuttosto l'obiettivo di ridurre i CDA pleonastici e le poltrone dei consigli di amministrazione il ruolo della politica dentro le banche e le super consulenze smentite o meno la questione in ogni caso è aperta la confindustria bancaria alla palla alzata a Cernobbio risponde rilanciando siamo pronti a sederci immediatamente con il Governo e le organizzazioni sindacali di settore per fondare un nuovo patto sociale Paura, tanta paura ancora nel centro d'Italia nelle terre devastate dal terremoto dello scorso 24 agosto la terra ha ripreso non si è mai fermata continua a tremare due scosse una all'alba un'altra intorno a mezzogiorno avvertita tra l'altro ad accumuli dove era in corso un incontro con il capo della protezione civile Curcio il commissario Errani e gli sfollati per qualche secondo è stata interrotta o l'incontro poi ripreso al termine il capo della protezione civile ed Errani hanno annunciato che entro sette mesi verranno consegnate le case provvisorie a chi ha perso tutto una sequenza micidiale prima a Norcia in piena notte per l'esattezza alle 3.34 ora fatale due minuti prima della scossa del 24 agosto scorso due minuti dopo quella di sette anni fa all'Aquila poi a metà mattina ad Ancona infine in provincia di Macerata ed è la più forte a dieci giorni dal sisma la terra trema di nuovo 4.3 la scossa di Norcia 4.5 a Macerata non ci sono feriti ma danni sì qui siamo a Norcia dove i vigili del fuoco sono intervenuti perché sono crollate altre parti delle mura della città l'Istituto Nazionale di Geofisica studia il possibile andamento e la dinamica in base agli eventi già accaduti e i suoi esperti dicono non si può escludere una nuova scossa comparabile alla prima nessun alarmismo ci spiegano ma può succedere intanto i vigili del fuoco continuano a lavorare a cercare tra le macerie di Amatrice l'ultimo disperso Sayed il ragazzo fuggito dall'Afghanistan era in attesa dell'asilo politico e qui era solo di passaggio per ora il bilancio è fermo a 294 morti dopo il recupero dell'ultima vittima ieri sera in una frazione di Amatrice dove oggi si è fatto un primo importante passo in avanti la riapertura del ponte Treocchi la strada principale che porta al paese un bypass costruito in tempo record 8 giorni nei quali i militari dell'esercito hanno lavorato 24 ore al giorno il sindaco di Amatrice si commuove e dice lo chiameremo il ponte della rinascita questo è un fatto che ho chiesto oggi all'esercito che il mio esercito che voglio consolidare la bandiera diciamola però nel cuore poi bisogna fare i conti con la realtà con gli inevitabili tempi più lunghi della ricostruzione gli sfollati devono rimanere nei loro territori dice il capo della protezione civile Fabrizio Curcio si è pensato alle casette ma per costruirle ci vorranno almeno sette mesi calendario alla mano significa non prima di aprile non prima dunque che l'inverno passi con le sue temperature che qui sono molto rigide Curcio e il commissario Errani spiegano che in questa fase di transizione ci saranno i contributi per affittare abitazioni l'accoglienza negli alberghi della zona ma anche le seconde case quelle ancora agibili una sorta di accoglienza solidale da parte dei proprietari che vorranno metterla a disposizione degli sfollati un possibile gesto di solidarietà come la raccolta dei beni di prima necessità tanti tantissimi sui quali degli avvoltoi ieri hanno tentato di mettere le mani due sciacalli che si erano mascherati da volontari e si aggiravano dentro un accampamento di acqua sante terme ad Arquata in questa tendopoli abbiamo avuto il sospetto su due individui che indossavano delle pettoline fluorescenti del personale che operava volontariamente quando i carabinieri li hanno fermati avevano già caricato dentro un camioncino scatole di cibo vestiti saponi perfino i giochi per i bambini terremotati vi ricordo l'iniziativa per le popolazioni terremotate del Tg della 7 con il Corriere della Sera donazioni che possono essere effettuate con carta di credito sulla piattaforma leggete come leggete unaiutosubito.org bonifico bancario banca intesa San Paolo beneficiario 9707 in questo caso dovete indicare la causale unaiuto subito terremoto centro Italia e dovete aggiungere questo 6.0 oppure potete fare un bonifico bancario banca prossima banca prossima conto corrente 1000 e poi 145551 intestato a un aiuto subito terremoto centro Italia anche in questo caso 6.0 e sotto vedete Liban ed ora Roma dove è al lavoro il sindaco Raggi per rimettere a posto ricompletare al completo la sua squadra operazione complessa non solo per le dichiarazioni velenose di chi è andato via sbattendo la porta perché dopo la segnalazione all'anticorruzione l'autorità anticorruzione che ha portato alle dimissioni del capogabinetto il magistrato Raineri ci sarebbe sotto osservazione dell'autorità anche qualche altro assessore poco fa invece la dichiarazione della Raggi a proposito della scelta dei nuovi scegliamoli insieme ha detto ai consiglieri del movimento Beppe Grillo almeno formalmente continua a tenersi fuori dal gran pasticcio lunedì non sarà a Roma come invece annunciato in un primo momento ma la consegna arrivata alla sindaca dai vertici del movimento è quella di tirare il freno mettere fine alle ostilità perché se si perde a Roma si perde ovunque un dossier da maneggiare con cura dunque così Virginia Raggi questo pomeriggio nel suo studio in Campidoglio suggerisce di non avere fretta mediatica meglio tardi e bene che presto e male la Raggi studia curriculum per rimpiazzare i dimissionari ma qualcuno dice che proprio nel nome della pace interna potrebbe sacrificare già dalle prossime ore il fido Raffaele Marra vice capo di gabinetto con un passato al fianco di Gianni Alemanno da rimpiazzare al momento c'è il capo di gabinetto e l'assessore al bilancio di missionari insieme ai vertici di AMA società dei rifiuti e ATAC trasporti ruolo quest'ultimo affidato a Manuel Fantasia ingegnere nucleare esperto di trasporti ma la lista degli adi potrebbe forse continuare visto che devono arrivare altri pareri sulle nomine da parte dell'autorità anticorruzione di Raffaele Cantone e sull'assessore all'ambiente Paola Muraro lunedì in audizione all'ecomafia insieme a Virginia Raggi pende l'inchiesta sui rifiuti e proprio contro Cantone si scatena Ferdinando Imposimato presidente onorario della corte di Cassazione un passato da senatore nel partito comunista e adesso vicino ai 5 stelle Cantone ha sabotato la giunta di Roma dice Imposimato dopo il grido di dolore dell'assessore di missionario Minenna in quella giunta niente trasparenza e scelte non chiare Minenna che oltre al bilancio aveva deleghe forti come quella al patrimonio e alle partecipate per le quali la Raggi starebbe studiando una nomina ad hoc e mentre alla sindaca arriva l'incoraggiamento di Alessandro Di Battista coraggio Virginia abbiamo tutti contro ma i romani sono con noi Luigi Di Maio immagine istituzionale dei grillini avverte basta slogan questa crisi può essere un'occasione per maturare e forse sarà per spirito di rivincita ma le parole di Andrea Orlando che per un attimo smette i panni del guardasigilli disegnano bene la situazione mi auguro che i prossimi cinque anni non siano come i primi due mesi dice Orlando il quarantesimo congresso dei radicali il primo dopo la morte di Marco Pannella ha vinto 178 voti contro 79 la mozione dei cosiddetti ortodossi presentata dal tesoriere Maurizio Turco contro quella dei quarantenni capeggiati da Marco Cappato già candidato a Milano non ci sarà nessuna scissione ha poi commentato Cappato quanto al vincitore ha annunciato l'obiettivo di 3.000 tesserati nel prossimo anno altrimenti il partito va in liquidazione tre giorni di lavori nel carcere come vedete dalle immagini di Rebibbia come segno di continuità con tante battaglie dei radicali e di confronto acceso sul rapporto con gli altri partiti e gli spazi possibili assente Emma Bonino al termine una vera e propria ovazione all'indirizzo del leader fondatore Pannella evocato in tutti davvero tutti gli interventi l'emergenza migranti oggi il ministro all'interno Alfano annuncia un incontro martedì con comuni e regioni per pianificare la redistribuzione dei tanti arrivati anche negli ultimi giorni Alfano abbiamo detto degli avvertimenti che ci arrivano dall'Europa ecco in questo caso è il governo italiano che dice all'Europa dovete fare la vostra parte e se non ci date una mano qui si rischia il collasso dell'Unione l'Italia sta facendo la sua parte ma l'Europa faccia la sua dal forum di Cernobio l'attenzione del ministro dell'interno Angelino Alfano è tutta sui 150 mila migranti da inserire nel nostro sistema d'accoglienza che viene messo a dura prova se l'Europa non dà una mano nei piani di ricollegamento e respingimento sui quali secondo Alfano oggi si rischia il fallimento che potrebbe portare al collasso dell'intera Unione bisogna calcare la mano sui rimpatri sottolinea il ministro e poi annuncia un vertice tra Stato Comune e Regioni già martedì la Sicilia non può pagare il doppio conto di avere gli sbarchi e tutta l'accoglienza addosso l'accoglienza va distribuita in tutta Italia e io ringrazio Piero Fassino che vedo seduto laggiù come presidente del Lanci perché martedì mattina ci vedremo e lanceremo un piano tendente a fare squadra parole che anticipano la seconda fase dell'emergenza prevista dal nuovo piano del Piminale che potrebbe alzare del 10% la quota dell'accoglienza per le regioni escluse quelle terremutate a mettersi in allarme le amministrazioni locali come nel Padovano quel nordesque il fenomeno migratorio lo conosce bene dove oggi alcuni sindaci leghisti e cittadini hanno manifestato contro la decisione della prefettura di trasferire una trentina di migranti in un albergo il segretario del Carroccio Matteo Salvini promette in Lombardia non entrerà più nessun migrante perché la regione con le 19.000 presenze già assistite ha fatto più del dovuto quei 2.000 previsti dal piano del Viminale dice Salvini dovranno trovare alloggio altrove mentre il comune di Milano dribbla le polemiche e fa notare che l'80% delle città lombarde accoglie poco o niente e così anche se ci vorrà ancora qualche settimana si cerca di risolvere il nodo caserma Montello anche per fronteggiare i tanti arrivi spontanei fuori quota chi sceglie di non trovarsi impreparato è l'Alto Adige dove l'amministrazione provinciale ha acquistato 80 container per fronteggiare eventuali situazioni d'emergenza visto che al Brennero l'Austria ha bloccato gli ingressi provvedimenti presi a più di 1.000 km di distanza dai moli siciliani e del sud dove non si fermano gli sbarchi solo oggi sono arrivati circa 1.200 persone salvate nei giorni scorsi in mare 800 sono stati portati nel porto di Messina 400 in quello di Vibo Valencia tra loro molti minori che viaggiano soli altri 900 migranti dovrebbero arrivare domani nel porto di Corigliano Calabro dall'Unione Europea come sapete prima dell'estate con un referendum è uscita la Gran Bretagna e poi sono in corsi tutti i passaggi che richiedono un certo tempo e oggi è arrivato un segnale dalla Gran Bretagna e cioè in piazza sono scesi tanti manifestanti per dire attenzione prendiamoci un altro periodo di riflessione per valutare se davvero è la scelta giusta quella di uscire dall'Europa è proprio il caso di dire London calling Londra chiama ma questa volta i clash non c'entrano perché è di Brexit che si parla ancora una volta è passata da poco l'ora di pranzo quando l'anime europea della Gran Bretagna decide di farsi sentire e così i migliaia scendono in piazza a Londra ma anche Edimburgo Birmingham Oxford Cambridge per dire no all'uscita del paese dall'Unione il referendum c'è già stato si dirà con ben altri esiti ma in realtà un margine di manovra esiste ancora ed è tutto temporale i manifestanti infatti chiedono una sorta di pausa nel processo Brexit soprattutto che gli stretti rapporti culturali ed economici con l'Europa non vengano bloccati e anche se i giochi sono fatti il cavillo in realtà esiste perché l'articolo 50 del trattato di Lisbona in cui si specifica che ogni stato membro può decidere di ritirarsi dall'Unione conformemente alle sue norme costituzionali non specifica i tempi e proprio di questo si è cominciato a discutere subito dopo il referendum del 23 giugno non solo gli europeisti britannici hanno organizzato la marcia proprio oggi perché oltre ad essere simbolicamente l'anniversario della seconda guerra mondiale è anche la vigilia di un dibattito parlamentare piuttosto rilevante alla Camera domani si discuterà di una petizione firmata da 4 milioni di persone per chiedere la convocazione di un secondo referendum come se il primo voto non fosse stato capito troppo bene in realtà la nuova Premier Teresa May ha già escluso categoricamente questa opzione anzi proprio in queste ore prima di partire per il G20 ha ribadito che il Regno Unito sarà leader globale del libero commercio anche una volta completato il processo di Brexit è ricoverato da questa mattina all'alba in un ospedale psichiatrico di San Sebastian in Spagna Nicolas Orlando Lecumberri il DJ di 23 anni affetto da disturbi psicologici lo ricorderete arrestato il 27 luglio dopo una serie di aggressioni immotivate ad alcuni passanti a Milano per le strade di Milano da allora era inchiuso nel carcere di San Vittore ma il giudice per le indagini preliminari ne ha disposto giovedì la scarcerazione e il trasferimento in una struttura di cura in Liguria nessuno però ne era stato informato nemmeno la famiglia così il ragazzo si era allontanato da solo per raggiungere in pullman Barcellona e il ministro della giustizia Orlando ha disposto l'acquisizione degli atti per verificare quello che è successo e allora tra poco in onda estate ospiti di Labate e Parenzo ci sono Mario Adinolfi Luca Barbareschi e Luca Fontana noi ci rivediamo tra qualche minuto con eventuali aggiornamenti rieccoci in studio non ci sono particolari aggiornamenti c'è quindi il tempo per augurarvi un buon proseguimento di serata